terza giornata del campionato di bocce della roverino contro il rosto a torino si è un avversario che incontriamo non per la prima volta l'anno scorso ci è andata bene speriamo che quest'anno sia uguale anche perché siamo a punti zero siamo ancora a digiuno di vittorie sarebbe il momento di farlo come mai quest'anno andate così lenti e abbiamo nuovi inserimenti in squadra i giocatori non ancora in forma e po la sfortuna tante cose in casa il fattore campo è sempre stato importante qui dentro quest'anno speriamo che inizi da oggi a ripetersi questo filone come vedi questo campionetto più difficile degli altri anni perché ci mancano le forze però l'obiettivo salvezza dovrebbe essere raggiunto adesso prossimo sabato di nuovo in casa di nuovo in casa contro vado una neo promossa per cui alla nostra portata per oggi bisogna vincere a tutti i costi solutamente vincere oggi obbligatorio siete a metà della partita 6 a 6 6 a 6 sull'incontro tradizionale ci giochiamo l'incontro speriamo di far valere il fattore campo come abbiamo detto prima acquisto se il punto di forza di questa quadra ma no no sono diciamo il mio promosso che qua sono solo due però cerchiamo di dare un contributo ecco sì no 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 un giudizio su questo campionato il campionato un buon livello noi come sempre in casa anche se siamo forse una squadra che tira la salvezza siamo filo da torcere a tutti ecco ma ci difenderemo ci salveremo sono convinto sì 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 comunque oggi contro rosta è una partita la vince a tutti i costi no per forza dopo due sconfitte dobbiamo vincere per forza due incontri in casa perché se no si complica tutto vincendo due incontri in casa anche il morale possiamo farci poi sarebbe una carica in più per la partita prossima di sabato che giocherete di nuovo in casa contro vado si contro la vadese che anche loro diciamo sono più o meno come noi arrivano a due sconfitte ma diciamo una squadra come noi però in casa abbiamo qualcosa in più anche il pubblico qui daremo sicuramente filo da torcere a tutti ambientamento in questa nuova squadra si è già fatto sì avevo già qualche amico che avevo già fatto qualche campionato anche ad arma d'arma di taggia diciamo che ci conosciamo un po tutti se sia un gruppo di amici soprattutto è un bel ambiente un bel ambiente grande tifoso della roverino maestro dorsi romano e sei tu che fai tutte queste cose no queste specie di animali animali perist per storici e il piccolo alfredino morto nel pozzo ecco maestro queste opere quando le fai nel tempo libero nel tempo diciamo io qui al mattino vengo quale 6 7 e mezza e faccio manutenzione ai campi il giardino e nel bar e più dopo al verso le 10 così mi prendo qualche pezzo penso che trovo di pezzi meccanici tutto quel che trovo e mi metto lì colpo colpo di saldatura di qua colpo di saldatura di là e creo qualcosa che sei anche l'autore del del trofeo della regatta del mare il corsaro nero e a 20 miglia su largo torino c'è il monumento del corsaro nero che è alto due metri e mezzo proprio su largo torino poi ho fatto anche il monumento al cane randaggio poi a giardini pubblici c'è la scultura della mediterranea dentro i giardini poi al giardino la spesa ho fatto anche un giardino per ragazzi disabili e ho anche fatto per i militi della croce verde il san michele un san michele d'argento che è stato fatto due anni fa sulla piazza sua san michele 20 miliata